Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo di un'indiscrezione della Presidenza del Consiglio. Matteo Salvini, Mario Draghi e il governo che potrebbe cadere, ma perché potrebbe cadere? Non per colpa di Matteo Salvini. Quindi il governo presieduto da Draghi, Mario, non verrà mai messo in discussione da Matteo Salvini. Il segretario della Lega, in un'intervista rilasciata al tempo, è stato chiarissimo e su questo punto ha detto che il governo non è in discussione per quanto riguarda Matteo Salvini e la Lega. Chi invece potrebbe remare contro l'attuale governo sono da ricertare altrove, precisamente nell'area politica di sinistra. Chi crea polemiche, dice Salvini, o insiste su temi divisivi come Iussoli, VVL-Zan, tasse patrimoniali, eccetera, eccetera, la lista è lunghissima, non fa del male alla Lega ma piccona il governo Draghi. E se il governo Draghi fallisce è un problema per l'Italia intera. Lo ritengo un atteggiamento pericoloso e irragionevole, quello della sinistra. Intanto Salvini spiega sempre al quotidiano Il Tempo, che per quanto riguarda la federazione, che si parla tanto, ma che poi non è mai avvenuta per il momento, tra Lega, Forza Italia e altri partiti di centrodestra che sono attualmente al governo, il capo della Lega dice questo. Lavoriamo con convinzione per aggregare e rendere più efficace il centrodestra di governo, soprattutto ora che 5 Stelle e PD sono in crisi e il governo Draghi ha bisogno di un sostegno chiaro e vigoroso. Noi ci siamo con lealtà e idee chiare. Vanno però superate le resistenze di alcuni gruppi di Forza Italia che temono si tratti di un'annessione alla Lega. Ma sull'annessione il capo appunto del Carroccio dice non c'è nessuna annessione. Ne ho parlato più volte con Berlusconi e non solo. Pari dignità. È una federazione e mi auguro di coinvolgere tutte le forze di centrodestra al governo. In realtà pari dignità non potrà esserci come non c'è stata neanche nel PDL, come non c'è nel centrodestra. Un partito Forza Italia dal 6% e la Lega dal 22% non possono avere la pari dignità politica nel senso che sono uguali. Quello che decide uno, quello che dice Salvini ha lo stesso peso di quello che dice Berlusconi. Una volta con il PDL quello che diceva Berlusconi era legge perché lui aveva il super partito e gli altri erano i piccoli. Mentre adesso non è così, anzi adesso la situazione è diametralmente all'opposto. Quindi il pari dignità non può esistere. E per quanto concerne i rapporti con Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, Salvini non teme che ci sia un logoramento dei rapporti. Dice assolutamente no. Il problema non è con Fratelli d'Italia. I miei avversari sono a sinistra e a Roma intendo sfidarli sui temi. Sto già programmando un tour delle periferie, almeno una a settimana. Insomma la macchina del segretario della Lega è pronta a mettersi in moto per le amministrative della capitale. Ma anche qui io ipotizzo l'inizio della campagna elettorale per le comunali di Roma. C'è un candidato, Michetti, voluto da Fratelli d'Italia e poi accettato da tutta la coalizione dopo lungo tempo. Adesso non si può che i capi del centrodestra singolarmente dicono, ad esempio, non so, Michetti farà questo, 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 questo. Poi arriva Meloni e dice Michetti farà questo, questo, questo. Poi arriva Berlusconi e dice Michetti dovrà fare questo, questo, questo. Può essere che la lista delle cose da fare e delle soluzioni ipotizzate da Salvini, Berlusconi e Meloni magari sono abbastanza coincidenti perché i partiti più o meno di centrodestra la pensano tutti allo stesso modo. Però non possono essere uguali. Pertanto probabilmente il centrodestra unito dovrà parlare con questo Michetti e fare una lista, un programma, delle cose non solo da fare, se sarà sindaco, ma anche da dire nelle manifestazioni, nelle presentazioni. Perché non... magari un partito dice Michetti farà un ponte qua e l'altro dice no, la priorità sarà fare un tunnel qua. Dice ma farà un ponte e un tunnel. Sì, l'obiettivo è lo stesso, velocizzare la circolazione delle macchine, ma uno dice di fare un ponte e l'altro dice di fare un tunnel, no? Di fare un tunnel. Pertanto dovranno mettersi d'accordo perché se il problema è risolvere il problema della spazzatura e Salvini, Meloni e Berlusconi dicono tre cose diverse. La spazzatura la mandiamo in un'altra regione. L'altro dice facciamo un incereditore e l'altro dice no, facciamo un bel buco, una bella discarica e ci mettiamo tutto dentro. Direbbero tre cose diverse per lo stesso problema. Pertanto io credo e spero che si mettano d'accordo con Michetti, anche perché va bene, i partiti lo propongono, ma il candidato sindaco magari ha a lui delle soluzioni personali. Ecco, non vorrei che ci sia la corsa adesso a far dire a questo Michetti cose che magari lui non ha neanche pensato. Questo è riferito a tutta la coalizione. Dovrebbero riunirsi, i capi del centrodestra, con Michetti, mettersi a un tavolo e discutere. Certo non lo puoi fare per 1300 comuni, lo puoi fare con Milano, Roma, Bologna, Napoli, le città più importanti. Per il resto ti devi fidare del candidato sindaco che hai messo. Quindi attenzione che avrà più libertà di pensiero il candidato sindaco di una cittadina, una piccola cittadina dove i capi politici non hanno né tempo né voglia di intervenire, mentre sulle grandi città come Roma a quel punto lì ci sarebbe un po' di confusione. Per questo che dovrebbero sedersi a un tavolo, ci vuole tempo per fare queste cose. Se non si ha tempo bisogna lasciar fare Michetti. Se invece si vuole trovare il tempo bisogna sedersi a un tavolo e mettersi d'accordo con il candidato sindaco. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti, ci vediamo presto tra una ventina di minuti.